E sì, Serena, siamo ancora qui oggi in compagnia di Rocco Salatto, presidente dei Giovani Imprenditori di Foggia. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Che prospettiva sta emergendo della nostra regione e dell'Italia in questo confronto voci? Beh, sicuramente si stanno analizzando diverse prospettive. Ormai abbiamo chiuso, possiamo dire, diciamo che abbiamo chiuso una finestra che era quella del Covid e che ci ha dato diverse difficoltà dalla parte economica, dalla parte sociale e quindi finalmente ci siamo ritrovati due anni, anzi anche tre, in questa location per fare questo format che ormai era diventato una continuità per noi. Diciamo che è fondamentale adesso cominciare a capire le nostre aziende dove e che direzione devono prendere in vista della problematica della guerra, della problematica dell'energia. È un mondo incerto in questo momento e quindi questi incontri, queste opinioni, questo scambio di opinioni tra i nostri relatori e noi, giovani imprenditori, servono proprio per farci un'idea di quello che potrebbe essere il nostro futuro. Devo dire che a dispetto di quello che è emerso anche da altre interviste, il suo che opera nel settore della sanità e case di cura è un bilancio un po' in chiaroscuro perché la sanità in Puglia sconta ancora gli errori del passato e c'è tra l'altro l'emergenza Covid che non è ancora archiviata e come dire ha falsato un po' il sistema economico. Sì, noi siamo una regione come tante altre in pieno di rientro da parecchi anni, abbiamo avuto, noi come sanità privata abbiamo avuto dei tagli notevoli, purtroppo abbiamo anche delle tariffe sulle prestazioni ormai vecchie, abbiamo i contratti di lavoro sempre chiaramente in aggiornamento e quindi rispetto a quella che poteva essere la generazione diciamo di mio padre o comunque dei nostri genitori viviamo un momento difficile dove l'errore non è possibile, dove i regolamenti vanno studiati, vanno seguiti, vanno lottati per cercare di portare un valore in più oltre a economico per le nostre aziende ma soprattutto come qualità e come assistenza. Quindi la nostra missione ovviamente è sempre nei confronti dei cittadini e nei confronti dei malati, questa è la cosa principale per noi però c'è una grande difficoltà nella nostra regione. Grazie, grazie per essere stato con noi, a voi studio.